buongiorno a tutti faccio un video sulla ricerca della felicità che anche il titolo di un libro di bertrand russell che accidentalmente è il signore caricaturato che ho alle mie spalle ma non mi rifaccio la sua visione di quel libro che lessi molti anni fa ma lo faccio su una mia riflessione che mi è maturata in varie letture di varie idee in merito a quello che sia la via per la ricerca della felicità poi potremmo dire serenità ma preferisco usare il termine forte e viva la sincerità anche questo secondo me esistono tre scuole di pensiero principali nella ricerca della felicità ammesso che fondamentalmente in maniera magari un po' sintetica ma che la ricerca della felicità sia un equilibrio, una serenità e anche una scarica di antedorfine in un certo senso che deriva dall'appagamento di quelle che sono le nostre istanze biologiche, le istanze emozionali in una parola nell'appagamento di quelle che sono le nostre spinte istintuali. La prima scuola è quella più normale quella in cui entriamo tutti secondo me quando cominciamo ad avere una vita adulta ovviamente da piccoli no ma appena cominciamo a confrontarci come dice Freud con la realtà e quindi passiamo dal principio del piacere che lui attribuisce al bambino cioè il bambino ha istintualità che lo porta a fare certe cose punto e basta non si pone il problema se la realtà lo accetterà pure. Si passa poi confrontandosi con la realtà che non si può avere sempre tutto al principio di appunto di realtà quindi i propri istinti vengono devono essere filtrati da quelle che sono le possibilità nella vita reale. Questo secondo me è il primo approccio che si comincia ad acquistare appunto da bambini appena si comincia ad avere un po' di autonomia nell'interazione con la realtà e che consiste nel affrontare i vari istinti, i vari desideri mettiamoli così che è un termine più pulito di volta in volta appagandoli oppure rinunciandovi nel momento in cui non si riesce a raggiungerli oppure negoziandoli con se stessi magari anche sublimandoli o negandoli quando sono troppo importanti, spingenti ma comunque non sono appagabili. Questo credo che sia la maggior parte della gente che adotta questo tipo di approccio che è quello più equilibrato cioè negoziare di volta in volta con varie metodologie le spinte del mondo interiore con le possibilità del mondo esteriore. Una seconda scuola di pensiero è quella che troviamo in varie filosofie e in varie anche religioni quindi nello stoicismo in parte nell'epicorismo nel buddismo eccetera che si può risumere fondamentalmente nel ridurre a monte praticamente la grande maggioranza delle spinte istintuali di modo da non essere delusi perché nel momento in cui io non ho una richiesta non posso avere una negazione di quella richiesta. A fronte del fatto che, semplifico ma prendiamo il buddismo, si dice che nella realtà sono più le inappagamenti che quelli che sono di appagamenti si risolve riducendo il flusso di domande e quindi a meno domande devono per forza corrispondere meno risposte negative. Ed è questo per sintetizzare la filosofia che venne molto amata e sposata da Schopenhauer che diceva che fondamentalmente bisognava negare proprio io, soffocare proprio io per trovare un equilibrio anche eticamente ma secondo me anche banalmente per un discorso egoistico di star bene con se stessi ed è qui il punto che vorrei sottolineare. Questa metodologia come la prima non è una superiorità morale, è un metodo egoistico con tutto il positivo che c'è nell'essere egoisti in maniera sana, non c'è niente di male nell'essere egoisti, anzi c'è tanto di male a impedire alle persone di essere egoiste nel momento in cui si impone di essere quello che non sono. C'è, questo lo dico per inciso, c'è una morale strana per cui si riconosce ormai che nella nostra società la profonda cattiveria nell'imporre a un animale di fare una vita che non è la sua, se io prendo un cane e gli faccio fare, gli faccio arare il campo, lo uccido non solo fisicamente ma anche psicologicamente, se prendo un cane lo abbandono, lo lascio solo, lo faccio soffrire e così via. Questo vale anche per l'essere umano, non è che l'essere umano è cattivo se è egoista, l'essere umano ha delle esigenze e non è che nel momento in cui si esprime è cattivo, è cattivo che gli impedisce di esprimersi, quindi tutte le volte che noi siamo egoisti senza fare del male agli altri, nei limiti, non c'è assolutamente niente di antietico. Tornando al discorso principale, comunque questo è un meccanismo egoistico, quello di rinunciare a tutte le proprie, alla maggioranza delle proprie istanze istintuali, nella ricerca di una serenità, di un equilibrio, anche di una felicità, perché i buddhisti, io ho conosciuto dei monaci, monaci non so se erano monaci, comunque dei buddhisti che erano appagati, sembravano profondamente sereni più di tante altre persone. E questa è la seconda scuola che secondo me si viene ad affrontare quando c'è un lavoro comunque da fare su se stessi e quindi ci si arriva con il tempo, con l'età, qualcuno prima, qualcuno dopo, qualcuno mai, ed è un approccio che forse anche invecchiando è più semplice, perché è un conto avere il bagaglio di istinti o comunque di esigenze emozionali che si ha a vent'anni o a dieci e un conto è quello che si ha a cinquanta, sessanta, anche se il cuore non invecchia, però insomma magari si smussa, si arrotonda. E poi veniamo all'ultima scuola di pensiero, che è quella invece secondo me, molto poco credo sposata da qualcuno, di riconoscere tutta la propria spinta emozionale, senza nessun infingimento, senza nessuna sublimazione, negazione o altri meccanismi psicologici, che del resto sono automatici quindi non è così semplice controllarli, però questo vorrei dire che secondo me è una filosofia che si potrebbe trovare un po' in quello che il pensiero dice. Cioè io riconosco in toto, nei limiti della mia capacità, ma in toto le mie esigenze e le mie istintualità come unità biologica e vado verso questo appagamento di queste esigenze, sapendo benissimo che la maggioranza non saranno appagate. Quindi questo è molto importante perché se no uno dice vabbè pago tutti i miei disegni e forse, credo che sia l'istintualità principale di tutti, di poter appagare tutti i propri desideri, anche se, lo dico sempre per inciso, anche questo non è detto che questo porti alla felicità, anzi sono profondamente convinto di no, ci fu un esperimento che credo fosse Universo 31, non ricordo un numero, su un gruppo di topi, una colonia di topi gestita in America, in cui si fece per esperimento, siccome il top è molto simile all'essere umano, da un punto di vista biologico e anche in parte psicologico, si fece l'esperimento, per questo che vengono usati come cavie, perché sono molto vicini a noi a livello evolutivo, molto più del cane e del gatto per capirci, gli venne dato a questa colonia di topi tutto quello che potevano appagare una vita di comunità soddisfatta, quindi cibo, acqua, benessere, spazio, partner a sufficienza, eccetera. Il risultato dell'esperimento fu disastroso, la comunità collassò su se stessa, smise di essere prolifica a livello di, a breve termine, e collassò anche in un collasso proprio strutturale della società, è molto interessante, vi lascio il link sotto, e detto per inciso è una cosa che viene riportata anche nel film Matrix, se l'avete visto, in quando dice che la prima comunità che si tentò di costruire, no, di esseri umani per poter risultare in un certo modo, era una comunità perfetta, la comunità è collassata dopo pochissimo, quindi è uno studio sociologico interessante che ci dice già che una società perfetta è una società in cui l'essere umano non sarebbe, non solo l'essere umano, almeno animali simili all'essere umano non sarebbero, non funzionerebbero, non è che non sarebbero felici, sarebbero verso il collasso e l'estinzione. Quello di cui parlo io però in questo caso non è appagare tutti i propri desideri, ma riconoscere tutti i propri desideri, fronteggiando la difficoltà che molti saranno negati, ci faranno star male, eccetera, eccetera, eccetera. Questa, come dicevo, è una visione che secondo me si avvicina un po' a quella che è la visione del Lubermensch di Nietzsche, anche se la mia conoscenza di Nietzsche non è sufficiente per, e comunque sto semplificando, è più complesso, eccetera. Questa, voglio dire, è una cosa che secondo me viene sposata da poche persone, nel senso che credo che la maggioranza della gente sia nella classe 1, cioè quello che posso appagare lo appago, quello che non posso appagare gestisco da un punto di vista dei difesi dell'io, quelle che sono le nozioni negative, con dei meccanismi di difesa dell'io, di cui vi metto il link sotto, e che secondo me vengono utilizzati e hanno una loro funzione. Finisco, la terza via secondo me è la più difficile, Nietzsche stesso, ed è un esempio tra i tanti che cercò di propugnare il valore di questa idea, evidentemente se ne conosciamo la storia, ebbe una situazione di stress che lo portò a un collasso psicologico, che poi lo portò a sua volta a distaccarsi dalla realtà. Quindi il discorso è, se era così positiva questa via, adesso non so, non sappiamo i motivi del collasso di Nietzsche, magari hanno cose biologiche, aveva anche delle problematiche di salute, eccetera, quindi non è detto che sia perché ha sposato questa cosa qui, anzi magari l'ha aiutato ad andare più avanti per più tempo, questo noi non lo sappiamo. Voglio dire che comunque mi sembra che venga perseguita da meno persone possibile nella società e la motivazione è che è il più difficile, sicuramente. Niente, io questo volevo porre all'attenzione, cioè quale sia la via migliore, tendenzialmente secondo me si parte con la prima e più o meno si tende a finire nella seconda, la terza è molto più instabile, molto più difficile da perseguire, è forse la meno egoistica però, è un dubbio che nel senso di appagarsi al costo minore possibile, è una domanda che mi pongo il lungo, vi ringrazio e al prossimo video.